rifugio bugone cafferino ci stava dai pensavo arrivava l'elicottero ho detto e invece arriva giovanni ma io pensavo si fermavano tutti ho visto il bar se sono tutti fermi berremo un caffè ho visto la tua mascherina della vertigo lì no lì lì l'ho vista lì fermiamoci un attimo pronti avanti avanti suda avanti Grazie a tutti. Devo tornare su! Devo tornare su! Lo zaino! E via, non ce l'ho! Vaffanculo! Puoi finire? Mi faccio vedere una figa e vai in aria! Arrivo subito! Sembrava un po' leggera la schiena. Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!